vincenzo e buon la mamma mi manda un messaggio che non trova il mio telefono cioè tu mi chiamava la ovvio sempre è cambiato la foto con me e mi scoppe lento ma stai tornando a me ma stai aci ma come tu le fanno come mi sto accendo Ma che è Sara? Sara, ma che è? Fai una cosa che è! Ma ti immagini proprio! Ma te, sì! Tu non ci hai smettito! Eh, non ci hai smettito!